Il nostro K di 90 aspetta una chiamata europea Mancano pochissimi giorni alla fine del mercato La nostra avventura al Boca sta per finire I bicchieri lasciano un bel pollice in su per continuare a supportare questa serie E adesso buona visione a tutti Bello ragazzi e bentornati qui sul mio canale Con la carriera giocatore con K di 90 Ancora al Boca, ma ancora al Boca per pochissimi minuti Perché quest'oggi ragazzi andremo a giocare la partita contro il Gimnasia Perché andiamo a dare il nostro addio al Boca con questa gara E dopo si aspettano gli ultimi 6 giorni di calcio mercato Siamo nella lista dei trasferimenti Sono arrivate già parecchie offerte Però ancora non sono arrivate le offerte che mi soddisfano al 100% Ho lasciato lo stroppo nello scorso video La maggior parte di voi ha buttato per un passaggio nel Kun in Serie A Ma ovviamente come ben sapete su FIFA, sulla carriera giocatore Ovviamente non si può scegliere in quale squadra andare Ma dobbiamo aspettare le offerte Quindi raga, in caso non dovessimo andare nella Lega, nel campionato che avete scelto voi Mi dispiace tanto, ma non prendetela con me perché di certo non è colpa mia Raga, non perdiamoci più in chiacchiere Andiamo a giocare contro il Gimnasia La Plata Dato che è l'ultima, forse con la maglia del Boca Prendiamo la maglia classica contro la maglia bianca della squadra di casa Tempo sereno, c'è un nuovo arbitro che è Gabriel Santiseban La squadra della seguente è Sara, Fabra, Virgini, Survalde, Jara, Pavon, Barrios, Cubas, Colaso A Costa e K di 90 di davanti Sarà una sfida non facile Voglio provare a regalare l'ultima gioia ai miei tifosi Andiamo a giocare Gimnasia La Plata, Boca Junior E se non l'avete ancora fatto, lascia te Un bel pollicione in su per questo talento argentino Non sarà facile regalare un'ultima gioia ancora ai nostri tifosi Siamo qui in trasferta Primera divisione, Gimnasia La Plata, Boca Junior Abbiamo fatto un ottimo campionato lo scorso anno Siamo arrivati da perfetti sconosciuti Il nostro pubblico ci ha adorato dalla prima all'ultima giornata E sicuramente non vorrebbe vedere la nostra partenza Ma il mercato sapete com'è Il mercato ci riserva sempre tantissime sorprese Il club vorrebbe rimanere però un'esperienza europea Gli piacerebbe davvero tanto Le squadre sono entrate in campo Avete visto che ho scelto la maglia classica Perché l'adoro e penso di comprarla anche a breve Raga per me è tutto pronto Possiamo andare a cominciare la nostra forse ultima gara Con la maglia del Boca Può accelerare, se ne va E in aria ormai provare ad entrare con la finta C'era sul sinistro parata nel portiere Poi non ci credo Barrios recupera Barrios dentro per Cundispa Cundispa viene il momento del compagno Bella palla per la costa Assist magico di K di 90 1-0 Boca al sedesimo minuto La rete del piccoletto A costa 1-0 Boca Andiamo a rivederla La magia di K di 90 Che ha visto il momento del compagno Lo ha servito con un cucchiaio Millimetrico Rivediamo Qui Barrios dentro per il Cun Il Cun vede il momento del compagno Gliela alza perfettamente A costa al volo Mamma mia Calcio champagne A costa Bella palla per Cundispa 1 contro 1 col portiere Il Cun prova ad alzargli Era davanti Mi ha allungato però la falla Che brutto errore Che poi sbaglia Il Cun la recupera Non riesce a trattare Per l'avversario Pavon Cundispa si gira Alla palla per lo suo sinistro Ci prova da lontano Mamma mia Che gol assurdo 2-0 Boca Si festeggia Si palla anche nel settore ospiti Mamma mia Non me l'aspettavo Cundispa si gira Alla palla Non sul suo piede preferito Ma tira fuori dal cilindro Un sinistro perfetto 2-0 Boca Junior Che rete per K di 90 Mamma mia No occhio Razic Porta Il puntese sul 2-1 Sempre per il Boca Ovviamente Quindi il gol Che accorce di distanza Però partita virtualmente Riaperta adesso Con questo 2-1 Anzi partita proprio riaperta Raga non dovevamo subirlo Questo gol Adesso ho paura Della reazione del Ginnasia Neil Porta palla Kubas lo chiude Poi la palla alzata Per Pavon Hara Meli Allarga per il Cun Dentro per Rapp Pavon Pavon Kondispa riesce a fregare La palla a tutti Se ne va Taglia il campo Sembra la rete contro Il River Palo Poi Kondispa Con l'esterno 3-1 Boca Junior Amo questo pubblico Amo questa maglia 3-1 Doppietta personale Ci voleva Concludere così Questa avventura Il lancio lungo Per Kondispa Kondispa Riesce a appoggiare dietro Per Meli Meli Dentro per il Cun Che prova a celare E' passato Kondispa Kondispa Prova a metterla dentro Ma viene fermato In calcio d'angolo Viene ammonito K di 90 75esimo Per un fallo precedente Calcio d'angolo La palla è dentro Kondispa di testa Ragazzi Se segnano di testa Abbiamo fatto la tripletta perfetta Kondispa L'ultima gara Mi rompe coglione Niente da fare Va bene così Sono davvero Molto Ma molto Soddisfatto E adesso Aspettiamo Le offerte Di mercato Dopo l'ultima Meravigliosa prestazione Ragazzi Avviciniamoci La fine del mercato Mancano soltanto 4 giorni La fine del mercato Vado a fare gli allenamenti Io ho davvero ansia Ragazzi Non immaginate quanto Ho ansia Di scoprire Qual è la nostra Nuova squadra E se mai Rimarremo qui al Boca Perché Non si sa Come andrà a finire Perché abbiamo due procuratori Che sono il nostro padre E Mino Raiola Questa qua è la storia Che ho inventato dietro K di 90 Purtroppo però Non sono ancora Arrivate offerte Andiamo a dare un'occhiata Qua Vediamo chi è interessato Al giovane talento Allora Bilbao L'Atletic Bilbao Fosburg Sarebbe anche Che è una buona destinazione Peti e Siviglia Non vorrei Scusatemi Non vorrei soltanto Andare in Spagna Non so per quale motivo Preferirei andare in Italia O al massimo In Germania Otto alla fine del mercato Kondispa ha corteggiato Dallo Sporting Guion Ce l'ha scritto Io nel frattempo Leggo le notizie In basso l'est Aspettando notizie Il Rosero Central Niente Il River Plate Sta negoziando per Paves Kondispa ha corteggiato Ancora dallo Sporting Guion Mancano 6 ore Arrivano i mail Occhio Occhio Vi prego Celta Vigo Eh La rifiuto Solo perché Non voglio andare in Spagna Una chiamata italiana Sarebbe il top Sarebbe il regalo Perfetto Per questa stagione Al Boca Fiorentina Napoli Qualsiasi squadra Inter Tutte Tutte Occhio qua Altra offerta Sociedad Real Sociedad Rifiutiamo anche questa Niente Mi sa che non ci arriveranno Manca troppo poco ormai Manca davvero troppo poco Bellerin ha detto No all'azletico Madrena Andiamo avanti ancora Mancano due ore Arrivano altre mail Calma Che ansia Ultima offerta Fiorentina Fiorentina Ma cazzo Che culo Un culo assurdo Andiamo in Italia Vogliamo in Italia Sono stracontento Mamma mia Che culo raga Accettiamo la tente Firmiamo alla svelta A due ore alla fine del mercato La Fiorentina Si aggiudica KD90 Dal Boca Junior Mamma mia raga Mancano ancora due ore Eccolo qua Con la maglia viola A due ore Dalla fine del mercato La Fiorentina Si aggiudica Uno dei talenti Europei Scusatemi Argentini Più forti in assoluto La società Per questa stagione Ci chiede di fare Cinque assist Il 15% Di percentuale Di realizzazione 12 gol Almeno 12 gol E il 6.8 Di valutazione media Raga Infortunale da mento Non ditemi che mi sono infortunato No ok Perfetto Perché sennò Che sfiga Io sono sincero Adesso ve lo posso dire Io volevo Un'offerta O dalla Fiorentina O dall'Inter O dal Napoli Erano queste le tre squadre Dove volevo andare Per il fatto degli argentini Perché gli argentini In quelle squadre Hanno sempre fatto bene Parto dal mio idolo Battistuta E infatti adesso Andremo a prenderci Se riusciamo La maglia proprio di Battistuta Con la Fiore Da Maradona All'Avezzi E tutti gli altri Al Napoli E all'Inter Che comunque Ha sempre avuto Una colonna argentina Mettendo in primis A Via Zanetti Sono stracontento Non me l'aspettavo Davvero Non me l'aspettavo Di Di applaudare La Fiorentina Proprio alla fine del mercato Applaudiamo quindi La Fiorentina E sono davvero Felicissimo Di questa notizia Lo faccio adesso Ragazzi Non so se il mister Ci farà giocare Subito contro la Lazio Se ci fa giocare Ovviamente vado a giocarla Perché si che c'è stato Il mercato di mezzo Ma vorrei Giocare una partita Andiamo Di Ficola E qui il nostro giocatore Mettiamo la maglia Numero 9 Che è la maglia Del Re Leone Ovviamente Per chi segue Il calcio Da tanti anni Sa che il Re Leone Era batigol Cioè Battistuta Maglia numero 9 Per KD90 Che non vede l'ora Di iniziare Questa sua nuova avventura Ovviamente vedremo Se cambierà il nostro sponsor Così Ci togliamo Queste scarpe Dai piedi Ho potuto aggiungere Queste statistiche Al nostro giocatore Queste caratteristiche Al nostro giocatore E adesso raga Sperando che il mister Ci faccia giocare Contro la Lazio Avviciniamoci Alla prima gara Con la maglia della Viola Lazio Cesena Genova Bologna 6.0 Un gol 14% E un assist Vediamo Titolare immediatamente Contro la Lazio Non posso crederci Andiamola a giocare Ma prima ovviamente Dobbiamo andare a campare La teleconica Perché c'è la teleconica Ancora argentina E' vero raga Sono Non felice Di più Qua mettiamo 6 minuti Per sbaglio Ho messo 7 Sono felicissimo Di essere appurato In Serie A Ma anche alla Fiorentina Perché ripeto Che le tre squadre Che mi aspettavo Erano Fiorentina Napoli O Inter E' arrivata la Fiorentina Che si aveva già cercato Nel mercato di gennaio E forse li avevo anche sbagliato A rifiutare Però Dopo 6 mesi Dopo il mercato di gennaio La Fiorentina Si aggiudica Uno Le talenti Argentini Più forti Maia Viola Contro la bianco celeste La Lazio 3 4 2 1 3 giocatori In attacco Giochiamo con Calenice Rossi Lì davanti Pazzesco Non abbiamo quasi mai giocato In un attacco a 3 Così vicino Al massimo come unica punta In un attacco a 3 largo Ragazzi Lazio e Fiorentina Andiamo all'Olimpico Per esordire Con la maglia della Viola Nessuno si aspettava questo Sono sincero Forse se lo auguravano in tanti Ma nessuno ci credeva Perché a due ore alla fine del mercato La Fiorentina Ha acquistato Dal Boca K90 Che quest'oggi Andrà ad esordire Contro la Lazio Prima partita disponibile E Paolo Sosa Lo ha messo Subito in campo Sperando Che questo giovanetto argentino Riesca a brillare In Serie A Come è fatto Nella primera divisione In quale lato L'ha in fondo Con la maglia numero 9 Maglia numero 9 del Suidro Batistuta Il Re Leone Batigol In quale lato Qui Felipe Anderson Ragazzi Cominciamo Lazio e Fiorentina La prima Con la maglia viola Per K90 E adesso è diventato K9 ovviamente Con Ispa Allarga Molto bene Per Bernardeschi Può andare Federico Bernardeschi Portapalla Ancora Bernardeschi Dentro da Giuseppe Rossi Rossi Dentro per il culma Viene fermato la De Vrij Occhio qua Retropassaggio Per Beriscia Grazie mille Gentilissimo Kundispa recupera la palla Perfetto Poi Giuseppe Rossi Rossi Dentro dal Kun Movimento di Kalinic Kundispa lo serve Kalinic va andare Kalinic Kalinic Beriscia In calcio d'angolo Kalinic Lancia per Kundispa Uno contro uno Contro Bastos Accelera il Kun Se ne va Bastos non riesce a tenerlo Kundispa Agira così Bastos Che poi aveva bloccato la palla Con una mano Calcio di punizione Ammonito Bastos Il Kun fa subito capire chi è Bernardeschi Kundispa Col sinistro Da lontano Palla alta Si dispera Felipe Anderson In area Felipe Anderson Tatarugiano Non riesce a prenderla 1-0 Lazio Al 45esimo minuto Speravo non riuscisse a prenderla Quindi ho detto Provo ad impensierirlo Poi nessuno Tra l'altro Tatarugiano E la storia Ha preso quella palla E Alazio Passa in vantaggio Kundispa Prova il lancio Per Bernardeschi Bella palla Bernardeschi Se ne va sulla fascia Il numero 10 Bernardeschi Fa tutto da solo Ancora Federico La mette dentro Il Kun non ci arriva L'uscita di Beriscia Il Kun aiuta la squadra Così Poi Bernardeschi Rosberto Duado Bernardeschi Lancio per il Kun Sulla fascia Può andare l'argentino Uno contro uno Si ferma Viene il momento del compagno Dentro per Bernardeschi Che viene fermato Dietro da Biglia Kundispa recupera la palla Sul calcio d'angolo A terzano Poi la palla Per Mati Fernandes Non so perché Si trovi alla Fiorentina Kalinic Kalinic Se ne va Ancora Kalinic Il Kun si propone dentro Kalinic viene fermato No Peccato Kalinic Il lancio in avanti De Vrij Non sa chi darla Rischia tanto Siamo in 4 Che stiamo pressando Nessuno che riesce A prendere la palla La Morrison Il Kun ce la fa Kundischi Ma dai Ma non era fallo Finisce qua Purtroppo non riusciamo ad incidere Nella nostra prima con la maglia viola Ma ci rifaremo Ve lo prometto Ci rifaremo Perché Questa nuova avventura Mi ha davvero Reso felicissimo Perché non me l'aspettavo Una chiamata del genere Cioè lo speravo Ma non me l'aspettavo Ma l'ho già detto Quindi non ve lo ripeto Sono davvero soddisfatto 7.0 Non lamentiamoci Per questo esordio E anche in Europa League La Fiorentina Mamma mia Andiamo a darci un'occhiata Siamo in Europa League Mamma mia Seconda stagione Per la prima al bocca Nella seconda Siamo già in Europa League Sono davvero Contentissimo Voi non immaginate Quanto avremo una sfida In Europa League Nel prossimo episodio Adesso io Mentre parlo Vado avanti con gli allenamenti Ovviamente Anche col calendario Comunque raga Io vi chiedo Il massimo supporto Mi piacerebbe Che questo video raggiungesse I Diciamo 2000 mi piace Potete farcela Lasciatemi un commento Dando un voto Da una 10 Alla vecchia stagione E ditemi Se vi aspettavate Un Vediamo Siamo titolare anche in Europa League Non voglio crederci Sono davvero Contentissimo Ditemi attraverso un commento Se vi aspettavate Una chiamata dalla Fiorentina E ditemi Se ho fatto bene ad accettare E non andare a Spagna Fatemi sapere poi Cosa mi pensate tramite un commento Come vedete Davvero una marea di commenti Qui sotto Raga Adesso è tutto Vi ricordo che sono a Napoli Per il video che mi show Per tutti i giorni Vi aspetto Numerosissimi Porterò anche qualcosina Che vi Dirò tra un paio di giorni Raga Adesso è tutto Io vi mando Un abbraccio enorme Qui sotto in descrizione Trovete Tutti i miei social E anche il sito di Instant Gaming Per acquistare A giocare presto bassissimo Adesso è tutto Non dimenticatevi Di condividere il video E di iscrivervi al canale Vi mando un abbraccio enorme E noi ci vediamo Domani Con un prossimo video Siamo finalmente in Serie A Un sogno che si avvera 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 Un sogno che si avvera